Amici di Enjoy Television, continua questa lunghissima nottata al sali e tabacchi, il mercoledì Superstar. Questa sera non ce n'è solo una di Superstar, ma ce ne sono davvero tante. Tanti amici di Enjoy Television e andiamo a fare quattro chiacchiere. Amici di Enjoy Television, mercoledì, Superstar, sali e tabacchi, rame! Buonasera! Buonasera! Come stai intanto? Benissimo, benissimo! Allora, questa sera è una serata particolare al sali e tabacchi perché c'è un grande ospite che è lui Vega, tu hai aperto la serata, io ho ascoltato bene il tuo DJ set da quando sono arrivata a quando hai finito. Ben DJ set di House, ma nel vero senso della parola però! Beh, chiaramente in un contesto di questo tipo, in un party dove il protagonista è Vega, è anche giusto dare una, come si dice, cercare di creare una trasfera consona a quelle che sono le sue qualità, perché lui possa esprimersi per quello che è. E quindi noi, parlo sempre al plurale, che siamo sempre in giro qua per l'Italia, meno male sappiamo come maneggiare la situazione. Perché secondo te all'estero, alla fine all'estero l'house cantata, la vera house cantata è un po' tra virgolette, prendilo con le pinze, quella che noi chiamiamo commerciale in Italia, no? Però in Italia più di tanto non funziona. Perché c'è questa differenza grossa tra l'Italia e l'estero? Non lo so, probabilmente è anche una questione di cultura. Noi in Italia siamo estremamente preparati. Chiaramente, a differenza di molti altri paesi, siamo molto, molto, molto attenti alle novità e a tutte le cose più fresche, diciamo. Per cui è chiaro che in questo momento magari un tipo di suono più classico va bene quando è mischiato con qualcos'altro di più attuale. Che poi oltretutto, diciamo le canzoni, chiamiamole così, ultimamente sono comunque tornate fuori alla grande. Ci sono tante cose nuove di ottima qualità. È anche stato un bel ritorno delle voci, no? È stato un periodo in cui non venivano più usate, adesso sembra che siano tornate in auge. In realtà non sono mai passate, nel senso che è una canzone bella, è una canzone bella ed è accettata da tutti. Quello che è mancato negli ultimi anni a livello discografico è stata la canzone bomba. E al contrario invece nell'ultimo anno ne sono uscite tre o quattro che probabilmente hanno fatto la differenza. Che cosa è di novità a livello discografico, tu e con gli altri ragazzi, quindi Pasta Boys, cosa c'è? Perché l'ultima volta ci siamo incontrati c'era un album. No, no, noi stiamo ancora lavorando all'album che in teoria, dico in teoria perché inizio non sai quando finisci, dovrebbe essere pronto per fine maggio. Salvo eventuali ritardi perché comunque cerchiamo di fare della buona musica, soprattutto che piaccia a noi. Per cui se non siamo estremamente convinti ci lavoriamo ancora un po'. Questo è uno dei motivi principali e anche uno dei motivi per cui da un paio d'anni a questa parte sul mercato siamo meno presenti. Perché chiaramente dopo tanti anni c'era l'esigenza di raccogliere delle idee, c'era l'esigenza anche di ripristinare una certa alchimia che abbiamo fra di noi nel sistema di lavoro. Un'alchimia che poi in realtà abbiamo sempre avuto, però non è sempre facile, sono tanti anni che siamo insieme e più che altro è difficile avere le stesse idee. Per cui in questo momento siamo molto compatti come idee ed è il momento giusto per provare ancora una volta a fare della musica buona che è quello che noi cerchiamo di fare. Per l'estate, secondo te, hai già sentito qualche sonorità che secondo te sarà? No, no perché poi in definitiva sono parecchi anni che la musica dance in generale è una sorta di riciclaggio, quindi come nella moda ci sono queste ispirazioni, chiamiamole ripescaggi, rinfrescati, però fondamentalmente non ci sono grosse evoluzioni se si parla di house music, ce ne sono in altri versanti della musica elettronica ma in Italia è ancora molto molto presto. Ti è chiuso il tuo DJ set con un piccolo omaggio a Whitney Houston. Si, se avessi avuto il tempo avrei voluto anche fare un omaggio giustamente a Lucio Dalla che è un mio concittadino e che è una, siamo ancora freschi da questa, come si dice, non trovo le parole, comunque è una grossissima perdita e mi sarebbe piaciuto poterli dedicare a un disco, avevo poco spazio soprattutto per creare il momento giusto per metterlo, però sarebbe stato assolutamente doveroso da parte mia. Allora, meglio ti ringrazio, alla prossima su Enjoy! Alla prossima, è sempre un piacere, ciao!